Io sono un chimico, sono docente di chimica dell'ambiente all'Università di Bari, da un anno e mezzo più o meno sono anche un vostro collega perché sono in convenzione con Arpa Puglia e svolgo il ruolo di dirigente di una piccola unità operativa semplice che si occupa di monitoraggio del particolato atmosferico, che è uno degli argomenti di cui storicamente mi sono occupato, più in generale di qualità dell'aria e di olfattometria, che è la misura degli odori, che è un altro problema abbastanza sentito e sempre più sentito in relazione anche all'incremento della qualità della vita delle popolazioni. Ho avuto questo incarico abbastanza complesso, però molto divertente perché mi sono divertito anch'io questi giorni preparando queste slide, ne ho preparate davvero tante, siccome poi qui sono per voi e non voi per me, cercate di interrompermi, di far domande, cerchiamo una relazione così che io anche in queste poche ore, poi prometto ritorno, in queste poche ore provo ad orientare più sui vostri bisogni prossimi questa relazione. Questo è un po' il programma, farò una breve introduzione su quelli che sono i limiti delle strumentazioni convenzionali, che generalmente hanno tutti gli organi di controllo, quindi anche Arpa Umbria, cercando di capire come mai questo è assolutamente non sufficiente, Walter prima faceva delle considerazioni rispetto anche alle modalità con cui il nostro paese si avvicina ai controlli ambientali e in realtà non si è avvicinato da solo, nel senso che è stato forzato ad avvicinarsi a questa che era non una cultura propria del nostro paese in relazione a direttive europee che voi conoscete benissimo, che poi in termini di qualità dell'aria hanno prodotto il DM60, il 155 che voi utilizzate oggi per i controlli ambientali. Invece in tutto il mondo sta cambiando, si sta passando da quella che è la verifica di un limite, dei limiti di legge, a quello che è studiare i fenomeni, capiamo quello che sta succedendo, cerchiamo di intervenire e di gestire opportunamente quello che oggi si chiama governance ambientale. Un altro aspetto che vedrò parecchio velocemente sono gli ambiti, perché anche qui si creano spesso delle sottoculture, poi anche qualche volta negli organi tecnici siamo costretti a occuparci di tante cose, cose molto diverse, qualche volta anche di cambiare mestiere molto velocemente, quindi si perde un po' anche la conoscenza degli ambiti. Allora siamo tutti lì a guardare le tecnologie, gli strumenti da utilizzare, anche i miei studenti vengono, dicono professore posso stare altri due o tre mesi, voglio imparare a utilizzare quello strumento, e io provo a spiegargli che in realtà è più importante che lui conosca i fenomeni e le leggi della natura, piuttosto che imparare semplicemente a utilizzare lo strumento, perché di ambito in ambito la strumentazione necessaria può cambiare, è uno strumento, per esempio Valde prima parlava di NOx, uno strumento che misura gli NOx, non può essere buono in tutte le situazioni in relazione al fatto che io debba misurare la concentrazione dell'aria qui fuori o qui dentro o in cima a un camino, quindi obiettivi del monitoraggio. Poi proveremo a vedere un po' di tecnologie, io vi ho portato un po' di materiale sugli strumenti innovativi, per il particolato atmosferico, sia per l'analisi ponderale, numerica, che per la caratterizzazione del particolato atmosferico, e soprattutto, visto che era questa la necessità, sono andato su quella strumentazione innovativa che fa controllo in campo, cioè ha risposte direttamente in campo e utilizza analizzatori in grado di determinare la concentrazione dei parametri di interesse direttamente in campo. Poi parleremo anche un po' di analizzatori portatili, sistemi per analizzare microinquinanti, gas in generale, attività che si possono svolgere con monitoraggi mobili, con remote sensing, prima Walter faceva riferimento alle determinazioni da satellite, ma non solo, pensate ai LIDAR, pensate ai DOAS, strumentazioni di questo genere. Proverò ad andare rapidamente, visto che Walter ha un grande interesse sull'aspetto utilizzo da parte della popolazione di strumenti per far misura, quello che oggi si chiama Citizen Monitoring, su cui ci sono anche molte riserve da parte della comunità scientifica, però stiamo vedendo ultimamente che può dare dei grandissimi benefici, perché a fianco a quella resilienza di cui Walter parlava, poi si sta generando una vera e propria cultura del problema. E vi devo dire che adesso nel quartiere Tamburi, a Taranto, ci sono dei piccoli esperti di qualità dell'aria, anche nella popolazione, e va da sé che non hanno profonda conoscenza degli elementi, però conoscono le logiche con cui i fenomeni si realizzano e quindi non sono più lì soltanto a vedere se un cammino fuma o non fuma a fare le fotografie, ma magari sanno che associato al colore di quel fumo ci può essere più o meno pericolosità, alcune sostanze e non altre. Abbiamo fatto un bel percorso con loro per dire che si può fare, si può fare chiaramente anche con un grande sforzo dei operatori, con un grande sforzo della comunità scientifica, perché andare lì e parlare in linguaggio tecnico e gestire il proprio sapere, come potere serve a pochissimo, però provare lì a dire che i fenomeni sono molto complessi, cioè non sono semplici, non sono banali, anche qualche volta troviamo un ambientalismo che tende a semplificare, spesso vado anche, spesso ormai sempre più raramente, vado nelle scuole ma mi piace andare anche nelle scuole dei primi livelli, mi piace anche andare nelle scuole elementari, ancora più che nelle scuole superiori dove trovi i bambini che ti ascoltano e che ti portano direttamente le loro sensazioni. E spesso anche lì a quei livelli mi tocca di sfoltire una certa cultura ambientalista, per cui se getti una lattina in un bosco l'albero piange, invece mi piace vedere i disegni dei bambini, quando i messaggi passano bene, che se getti una lattina in un bosco è il bambino che piange, e quindi capisci che il messaggio sta passando un po' diversamente. E quindi non dire come dicono qualcuno, non tutti gli ambientalisti, attenzione, non dire come dice qualcuno, anche perché io stesso sono un ambientalista, non come dice qualcuno che è tutto semplice, tutto si può capire, i sistemi sono complessi, ancora noi conosciamo molto poco di questi sistemi, e qualche volta anche un passo indietro di timidezza della comunità scientifica ha determinato grandi danni per la società, perché con questa scusa che non sappiamo tutto bene, qualche altro dice vabbè allora procediamo così, nel frattempo voi continuate a studiare, capite se si può fare o non si può fare, evitandoci di applicare un sano principio di precauzione quando appunto le cose non si sanno. Vabbè, a parte questo commento vi dicevo, ho fatto una bella esperienza con un po' di cittadini, adesso stiamo sviluppando anche un progetto invece per le missioni d'origine, di cui poi più avanti vi parlerò, quindi si può fare, si può utilizzare anche in maniera fattiva la loro collaborazione, in maniera anche molto responsabile, i cittadini se resi appunto importanti sanno rispondere anche responsabilmente, non in maniera strumentale. Considerate che io vengo da un posto dove non c'è una grandissima densità industriale, e quindi come via in su un minimo di fabbrichetta, anche semplicemente un caseificio, tutti là sono che non lo vogliono, non il NIMBY per gli impianti di trattamento rifiuti, il NIMBY per tutto, una qualunque cosa che magari mi toglie la visuale del mare o del cielo, o di qualunque altra cosa, che da un certo punto di vista è giusto, poi da un altro punto di vista, poi ci riporta in un ambientalismo nostalgico, che comunque non determina sempre un valore. E vedremo come questi strumenti possono essere utilizzati non solo alla popolazione, ma possono essere utilizzati efficacemente per interpretare i fenomeni, si possono utilizzare per fare screening, si possono utilizzare per fare mapping, che adesso è utilissimo, importantissimo, tra un po' vedremo perché, e vanno utilizzate con granosalis, vanno utilizzate conoscendo le potenzialità degli strumenti, diceva prima bene Walter, ormai stiamo cominciando a consegnare in cittadini anche quello che è il QAQC, insomma i controlli di qualità, capire se lo strumento sta funzionando bene o male, cosa che riesco ancora a fare con molta difficoltà anche con i miei studenti. Poi ci sono degli aspetti dove non basta la sensoristica, ci sono dei temi come quello delle emissioni d'origine di cui prima stavamo parlando, dove i sensori non sono sufficienti, o meglio li dobbiamo utilizzare soltanto in condizioni molto particolari, nelle stesse condizioni in cui i sensori più capaci, che sono per esempio il nostro alfatto, sono in grado di determinare la molestia, e quindi di fare attivare strumentazione opportuna, che altrimenti in una qualunque situazione genererebbe non risultati interessanti, e quindi la solita situazione che magari avete vissuto pure voi in ARPA, ci chiamano perché c'è puzza, c'è puzza, voi andate lì con gli strumenti, non trovate niente di rilevabile, dite non c'è niente, magari la puzza la sentite anche voi, ma non sapete come sostenere le ragioni di chi in quel momento è molestato. E poi infine, questo è un commento magari la prossima volta che vengo ne parliamo ancora, cioè se serve ancora un laboratorio, perché dopo che vi farò vedere che stiamo stressando moltissimo sul sviluppare tecnologie che lavori direttamente in campo, per avere quei risultati subito, perché poi il decisore possa prendere subito un provvedimento, non aspettare 3-4 giorni perché dobbiamo portare il campione in laboratorio, dobbiamo analizzare, eccetera. E anche questo viene vissuto dalla popolazione in maniera non troppo positiva, quindi stiamo sviluppando tecnologie per fare tutto in campo, per dare risposte veloci, che non servono soltanto per fare forecasting, per fare previsioni, ma per fare addirittura nowcasting, cosa sta per succedere tra un'ora o adesso, cosa sta succedendo, e quindi prendo il provvedimento di chiudere, tenere aperto, eccetera. Cominciamo da questa prima parte, che era appunto verifichiamo se stiamo sotto il limite, era l'approccio classico degli organi di controllo, cioè facciamo reportistica infinita, un sacco di carta, un sacco di ormai di pagine sul web, per comunicare tantissimi risultati che sono sotto il limite, e questo è fondamentalmente quello che si fa. Però cosa facciamo di tutti questi risultati, che tra l'altro come diceva Walter, cominciano a costare anche tanto alla comunità, pochi lo sanno, e quindi sì facciamo i nostri by report alla fine dell'anno, alla fine di ogni mese, però a cosa serve tutto questo? E qualcuno invece sta cominciando a chiedere, visto che ci sono dei problemi poi sui territori, volete vedere se un po' di questi dati li prendete per bene, li fate a meno efficace, così che cominciamo a interpretare i fenomeni, che oggi vuol dire per esempio, non solo sto sotto il limite o non sto sotto il limite, ma che è stato a produrre questo inquinamento, o quando si ripropone, o cosa posso fare io nei momenti in cui si ripropone, o con consapevolezza affrontare il problema e il fenomeno, quindi creare quella consapevolezza che rende anche il cittadino maturo nella scelta. Il problema è quello, qualche volta anche, scusate ogni tanto saltano delle slide, perché l'ho fatta in me che è adesso qui, il problema qualche volta è quello di avere un limite, perché sappiamo che non solo oggi è inutile, per quanto vi ho detto prima, in termini di interpretazione dei fenomeni, sapere se stiamo sotto o sopra un limite, ma soprattutto perché sappiamo benissimo questi limiti come vengono tirati su, cioè non sono dei limiti associati a conoscenze tossicologiche, epidemiologiche, certe, questi limiti, il limite di 300 microgram per metro cubo per legno 2, è un limite che è una convenzione sociale, dove qualcuno si è messo d'accordo, ha detto sì, questo è irrealizzabile, questo no, proviamo, vediamo, generalmente nelle aree non inquinate i valori sono molto bassi e sono limiti che abbiamo ormai da circa 20 anni, per cui chi di voi ha mai trovato superato questo limite, raramente immagino, nella qualità dell'aria, o i limiti per le CO2, tranne in alcuni rarissimi casi, ormai abbiamo concentrazione di CO2, che sono a livelli di 0,1 microgram per metro cubo in molte aree del nostro paese, lo stesso dicasi per il monossido di carbonio, quando li raggiungeremo i 10 milligrammi per metro cubo? Praticamente mai, sono rimasti questi limiti così, allora quando la gente, qualche volta anche funzionale, una certa gestione del potere, dell'economia, dicono, scusa, io sto sotto il limite, lo dice anche Arpa che sto sotto il limite, sotto il limite va tutto bene, quando noi oggi sappiamo che per esempio, questo non è sempre vero, ci sono cancerogeni, per cui il fatto di stare sotto il limite, non significa che non ci sono delle persone che ci rimettono la pelle, però questo per noi oggi è considerato come socialmente accettabile, avevamo 10 microgrammi per metro cubo nel 2005 di benzene come limite, 5 anni dopo siamo con un decalage arrivati a 5 microgrammi per metro cubo, non è che prima il benzene facesse meno male, adesso fa più male, appunto qualcuno si è messo d'accordo che quello è uno degli obiettivi realizzabili, adesso abbiamo quasi tutta Italia che sta tra 1 e 2 microgrammi per metro cubo e diciamo adesso stiamo bene, però in realtà non è così, perché come potete leggere qui, anche associate a un microgrammi per metro cubo, abbiamo delle persone che prendono le leucemie e per noi questo è socialmente accettabile, perché è un buon compromesso tra le necessità che abbiamo di sviluppare tecnologie, di produrre, di fare qualità della vita e quella della salute. Un altro aspetto è quello legato alle lette di monitoraggio della qualità dell'aria che noi generalmente abbiamo, utilizziamo, che sono queste cabine che abbiamo messo per legge in posti rappresentativi della qualità dell'aria, che poi significa poco, perché quanto rappresentativi sono, in realtà facciamo delle misure assolutamente puntuali, e quanto anche questa rappresentatività rappresentatività non rappresenta un limite. Prima ho fatto l'esempio degli odori, adesso per l'esempio degli odori dire che io ho il campionamento o la misura in continuo in un posto rappresentativo non significa niente, perché c'è una persona che poi sente la puzza in un posto particolare, che il contrario è che è rappresentativo, è proprio quello lì. Dire che ho dei recettori sensibili, che sono le scuole, e che sono gli ospedali, e che sono i campi da calcio dove ci giocano i bambini, non vuol dire che quel luogo è rappresentativo, è un luogo particolare. Quindi abbiamo inseguito in questi anni la rappresentatività dei siti, quindi attenzione a metterli agli hot spot, perché sennò prendono concentrazioni troppo elevate, quando alla fine abbiamo tanti casi particolari. Se fate un mapping oggi con anche misure satellitari, come quelle che prima citava Walter, vedete che le aree sono tutt'altro che omogenee, se andate anche nei canyon urbani, se andate anche nella città di Perugia, ho visto degli studi che fanno i miei colleghi dell'Università di Perugia, tutt'altro che omogenee le concentrazioni nell'ambito dei vostri territori. Quindi questa rappresentatività spaziale rappresenta qualche volta un limite. L'altro problema è che davvero noi studiamo poco di quello che c'è e come al solito, come diciamo noi chimici, siamo lì che cerchiamo quello che conosciamo, ma non cerchiamo quello che non conosciamo. Noi siamo sicuri in questo momento che stiamo determinando gli inquinanti rilevanti rispetto ai danni che si possono produrre per la salute e per l'ambiente? In realtà no, non lo sappiamo. Quando mi sono laureato io nel 1997 ho fatto una tesi di laurea sul mosso di carbonio che sembrava il problema assoluto legato al traffico autoveicolare e poi si è scoperto che in realtà la gente non moriva per quello oppure facevo delle misure di piombo perché allora c'erano ancora le benzine non verdi, quelle che chiamavano rosse e poi si è scoperto che invece introducendo delle benzine verdi utilizzando le benzine come antidetonanti avevano creato un problema più grande rispetto a quello dell'asma infantile che determinava il piombo o qualche volta qualcuno aveva studiato anche l'accumulo nel cervello dei bambini però non si avevano delle rilevanze delle evidenze scientifiche come diceva prima il direttore mentre sul benzine si avevano tantissime evidenze scientifiche tant'è che i produttori di petrolio stavano togliendo via dal mercato e poi l'hanno rimesso come antidetonante nelle benzine e qui anche il grande silenzio di una comunità scientifica che è assolutamente ancora oggi inadeguata a supportare e a sostenere le comunità e i territori e ad aiutarli a guidarli in queste sfide in questi percorsi molto complessi per cui noi non sappiamo se monitoriamo le cose rilevanti sì oggi studiamo il benzopirene ma domani scopriremo che non è quella la sostanza più tossica presente nelle miscele di aria che campioniamo e questo è un limite che dobbiamo conoscere bene perché adesso facciamo tante considerazioni anche sugli impatti sulla salute la regione Puglia ha fatto per esempio una legge sulla valutazione del danno sanitario si fanno nei territori valutazioni di impatto sanitario le vis si inseriscono parte di queste nelle valutazioni di impatto ambientale e lo riconduciamo soltanto a queste sostanze siamo sicuri di avere un budget di tossicità complessivo riferendoci soltanto a queste sostanze o sono soltanto dei marker per farci capire se in seguito a combustioni la combustione è più o meno efficace e più o meno impattante e poi c'è il discorso che faceva Walter prima sulla sostenibilità dei costi quello che facciamo oggi ha dei costi notevoli non è così interessante da un punto di vista scientifico in interpretazione del fenomeno e continuiamo a sostenere questi costi poi ci fanno dei tagli perdiamo sempre più di qualità perché molti di questi strumenti non siamo in grado poi di manutenerli con quei costi molti non siamo in grado di ripristinare la strumentazione nuova e quindi continuiamo con queste cabine di monitoraggio a fare il possibile però ecco sempre di più sono d'accordo con Walter qualche volta anche a fare il gioco di di chi non ha alcun interesse ad abbattere le proprie emissioni faccio di nuovo qualche esempio qualche volta adesso non cito l'esempio però ci arrivano anche le reti di monitoraggio della qualità dell'aria che spesso prescriviamo agli impianti ai grandi impianti quindi diciamo ok però metti una rete di monitoraggio della qualità dell'aria ce lo mettono su inquinanti convenzionali i cui limiti loro non li supereranno mai allora ha un senso continuare cioè se io ho un pozzo petrolifero ha senso che io determini ienox il monossido di carbonio o addirittura l'ozono ok se volete può essere interessante come inquinante secondario magari monitorare se ci sono delle conseguenze in termini di fenomenismo fotochimico però in prima battuta ha un senso tutto questo cioè se la gente sente puzza non è più giusto che ci metti magari dei monitor di H2S o dei monitor di composti organici volatili cioè quindi dovremmo adeguare questo però ci rispondono ma lì non c'è un limite previsto dalla legge che facciamo allora non perché non c'è un limite così come prevede la via anche le autorizzazioni integrate ambientali non si prescrivono necessariamente sostanze di cui siano i limiti mettere le prescrizioni e controllare quelle sostanze che sono realmente prodotte che possono avere un danno sulla popolazione e sull'ambiente quindi anche su questo ecco stiamo continuando ad alimentare un sistema un mercato che è quello del monitoraggio della qualità dell'aria convenzionale che chi il controllato ha assolutamente scusate il bisticcio di parole sotto controllo e quindi non solo 155 ci sono nuove sfide che oggi ci impongono ad interpretare i fenomeni e quindi un monitoraggio appunto come dicevo prima che risponde a queste necessità e allora dobbiamo capire quali sono gli ambiti come vi dicevo prima quali sono i fenomeni quali sono anche gli inquinanti emergenti probabilmente bisogna fare uno sforzo anche tecnologico uno sforzo scientifico perché se io ho un'azienda che si occupa di fare polimeri e sto lì a determinare ma anche del pvc e sto lì a determinare la produzione di nuovo di NOx di CO di ozono di benzene probabilmente non troverò niente se invece provo a fare uno sforzo e a cercare se il monomero magari è un po' tossico cercare di mettere un sistema lì che determini il monomero ma non ce n'è uno abbastanza sensibile ok allora proviamo a vedere se posso fare qualcosa di surrogato cioè c'è un legame carbonio-idrogeno ok mi metto a leggere quel legame carbonio-idrogeno se aumenta probabilmente il clorodivine sta aumentando c'è un sistema che mi vede il legame clorocarbonio ok mi metto su quello per esempio per le discariche adesso stiamo molto lavorando per gli odori anche per misurare parametri surrogati che in qualche modo possano dare contezza del trasferimento di massa degli odori dal produttore al recettore stiamo cominciando a monitorare il metano che pure non ha odore no? però può essere una buona proxy può essere un buon marker dell'emissione di una discarica o dell'emissione di un rifiuto e quindi se il metano sta aumentando può essere che aumenti anche la concentrazione di odore ecco bisogna un attimo andare anche di fantasia o di creatività o mettere a frutto tutte le conoscenze a disposizione e questo è perché oggi è importante studiare la chimica e la fisica dell'atmosfera i fenomeni si configurano differentemente a parità di emissione se la fisica dell'atmosfera cambia si configurano direttamente se c'è una combinazione in atmosfera in alcuni periodi dell'anno di inquinanti o di sostanze molto reattive che determinano una variazione della sostanza emessa e quindi siamo lì dietro qualche volta a seguire per esempio i composti organici volatili che non hanno una tossicità diretta alcuni di questi i fenomeni di smog fotochimico ma non quelli evidenti che portano alle elevate concentrazioni di ozono quelli che aumentano la concentrazione dei radicali organici in atmosfera dei ossidradicali dei perossidradicali quelli che li vede nessuno eppure quelle sono sostanze molto pericolose per il nostro organismo se inalate i fenomeni sono i trasporti trasfrontalieri noi siamo attentissimi a vedere quello che succede nel nostro territorio a breve distanza a piccola distanza però oggi a parte le dassa ariane che abbiamo studiato anche con i colleghi dell'Umbria dell'ARPA e dell'università ma anche i fenomeni trasfrontalieri pericolosi noi per esempio ci siamo accorti dopo farò vedere qualcosa che ha le nostre latitudini ma credo anche a queste per gli studi che abbiamo fatto arrivano emissioni dall'est Europa dove ci sono impianti che bruciano ancora combustibili con un altissimo tenore di zolfo e ci ritroviamo elevatissime concentrazioni di solfati nelle nostre zone dove questo solfato non si spiega facendo un bilancio di massa di tutte le CO2 che può essere prodotto dagli impianti che abbiamo dove questo solfato non si spiega nemmeno se consideriamo tutta la biomassa il dimetildisolfuro che va dimetildisolfossico che poi va al solfato oggi ci serve avere sistemi diversi perché come si fa ancora a validare modelli statistici e modelli deterministici con un solo punto con due punti discreti nelle nostre centraline sì i nostri colleghi ci provano ma non non è razionale non è un una una validazione opportuna quella che si fa modellando poi alla fine si rischia di spostare il modello su quei dati qualche volta anche abnormi che vengono fuori dalle nostre centraline e per questo perché abbiamo bisogno di fare now casting fuori casting abbiamo bisogno di capire chi sono i responsabili dell'inquinamento che abbiamo letto abbiamo bisogno di fare mapping dire quali sono le aree più critiche perché oggi i decisori hanno anche un numero di risorse limitate devono fare degli interventi devono fare nelle aree più critiche un altro problema è quello dell'esposomica Walter questo è bellissimo per tutti i discorsi che ci hanno fatti dopo farò vedere delle slide anche su un modo diverso di approcciare il citizen monitoring cominciando a mettere sull'individuo non solo dei sensori che monitorino gli inquinanti ma anche le potenziali e le reali reazioni che si ha in relazione all'inalazione di questi inquinanti quindi anche una sensoristica legata ai parametri del corpo a quelli più semplici fino ad arrivare a quelli più complessi metabolici anche su questo noi stiamo facendo dei piccoli studietti per esempio sull'espirato umano e sulla composizione dell'espirato umano come diagnostica di un'esposizione particolare o comunque un cambiamento all'interno del metabolismo questo dell'esposomica è importante e interessante il professor Gennaro collabora su questo anche con il professor Bianchi con il professor Bianchi di cui avete sentito la relazione al seminario ambiente salute a te che ci ha parlato dell'esposoma eh sì diciamo adesso questa questa è la nuova frontiera cioè a che mi serve scusate se torno su questa cosa avere la mia testa di prelievo a due metri in quella centralina che è rappresentativa di tutto quello che volete se in questo momento io devo valutare qual è l'impatto sui cittadini magari su quelli più sensibili o su un'aria ecco proprio con Fabrizio lui ha bisogno dei modelli di ricaduta degli inquinanti e prende quelli cioè delle stime come utili per vedere quali sono nei suoi studi di coorte le persone particolarmente colpite su cui l'impatto la ricaduta è più importante e poi all'interno di quelle cohorti fare valutazione oggi sta arrivando anche a valutazione di oncogenomica insomma è un grande lavoro europeo su questa cosa sì 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 noi per esempio adesso stiamo passando dai marker ai pattern di marker cioè non vediamo un metabolita in particolare che ha un superamento ma vediamo come cambia il pattern di emissione o di metaboliti normalmente prodotti e quindi sta cambiando non mi faccio aiutare dalle persone per portare avanti un'attività di monitoraggio no io sto su di loro perché loro sono quello che devo misurare è loro che mi interessano e allora capite adesso c'è una tecnologia che c'è chi da una parte come vi dirò adesso magari velocemente su alcuni strumenti ho bisogno di maggiore accuratezza di maggiore precisione di maggiore sensibilità le classiche caratteristiche analitiche perché pensate nell'ambito degli odori io ho bisogno di maggiore sensibilità perché sennò i miei strumenti non sono in grado di percepire quello che percepisce il naso umano o pensate nell'ambito delle particelle delle ultrafine particles dei particelli ultrafine delle nanoparticelle ho bisogno di arrivare a dimensioni infinitamente piccole e con molta accuratezza determinare qual è il numero di particelle però qualcuno dice no però no poi questo costa troppo allora no fammi qualcosa di più semplice di meno costoso no ma fammelo più piccolo basta che sia più piccolo per cui oggi trovate anche un come dire un proliferare una pletora di soluzioni tecnologiche e dove troviamo confusi giocattoli con gli strumenti scientifici e questo per esempio è una cosa su cui vi voglio allertare la collega mi ha chiamato l'altro giorno per una questione degli odori e poi spero di arrivare in giornata a parlare anche di questo problema e la cosa bellissima che mi ha fatto fare è un technology assessment una valutazione della tecnologia dimmi quello che devi fare vediamo quello che tu hai a disposizione vediamo quello che ti stanno proponendo da comprare e arriviamo a comprare la cosa più giusta e più opportuna per quel caso ecco questo oggi è quello che bisogna fare o che magari faccia tante cose insieme parlavamo dei nasi elettronici dei sistemi multiparametrici o per esempio che abbia diceva Walter prima una logica internet of things lo posso attaccare al plugino del mio del mio smartphone e può misurare e può connettere tutti Walter ho letto un'altra cosa dei colleghi non ricordo bene se danesi o finlandesi che adesso recuperano le fotografie del cielo cioè praticamente chiede a tutti i cittadini adesso non ricordo bene non era a Copenaghen per cui mi venendo nei marchi secondo me era a Finlandia di fotografare il cielo prendono tutte queste immagini le rielaborano per fare l'OT lo spessore ottico per vedere il numero di particelle cioè semplicemente non prendendo tutti i radiometri solari che devono stare a pregare la NASA di mettere sui nostri no chiedendo a tutti semplicemente di fare una fotografia al sole e con questi dati li raccolgono li mettono insieme e fanno delle mappe perché per fortuna la gente sta in posti in posti diversi oppure chiedono a qualcuno di hanno fatto dei modelli interessanti ci sta lavorando anche grandissime società c'è anche Microsoft IBM che stanno lavorando su sistemi associati ai TomTom per conoscere la densità di traffico ma non per dire dove è più trafficato dove è più trafficato ma avendo contezza anche in un database della motorizzazione di utilizzare quelli come inventario delle missioni poi alla fine quindi di lì produrre modelli oppure come dicevamo con Giancarlo che si alleggiora abbastanza ad andare su un drone perché se tu mi fai una roba di 30 kg sarà bella interessantissima ma su un drone non ci va oppure se me lo fai di 3 kg posso utilizzare un drone se me lo fai da 10 devo utilizzare un altro e questo può essere un problema non solo in termini di costi ma anche di trasportabilità di efficacia di realizzabilità che si possa calibrare ogni giorno ecco qui il QAQC di cui parlavo oppure ogni volta che lo accendo si può calibrare o altrimenti una roba che non devo mai calibrare ecco guardate le richieste che arrivano in termini di tecnologia sono molto diverse qualche volta molto disparate e soprattutto considerando che quello dell'Air Quality è un settore assolutamente di nicchia e considerando che si avvicina da Philips a IBM quindi con assenza di competenze di dominio è chiaro che poi vengono fuori i giocattolini o le cose più interessanti in relazione alle capacità anche di marketing che hanno queste aziende che le stanno sviluppando di nuovo dimmi prima qual è il problema che devi affrontare e io ti sviluppo uno strumento ad occhio e adesso per esempio ma anche società italiane molto interessanti alcune collaborano anche con noi che stanno lavorando moltissimo sulla customizzazione degli strumenti cioè gli stiamo chiedendo gli strumenti come li vogliamo noi e quindi qui ho scritto dimmi cosa vuoi fare ti dirò di che strumento hai bisogno se c'è se magari devi adattare qualcosa o altrimenti te lo fa realizzare e quegli ambiti ripeto possono essere diversi l'outdoor l'indoor l'esposizione personale il controllo di processo il controllo a camino possiamo anche per il controllo di processo perché devo avere uno strumento EPA certified certificato dall'agenzia ambientale degli Stati Uniti se devo fare controllo di processo ma non ha molto senso quelli mi servono giusto quando eh no però se non ci mettono quello strumento noi la prescrizione per noi non va bene molte autorizzazioni integrate ambientali troviamo questo alla fine e quindi facciamo anche utilizzare tante risorse dall'altra parte troviamo anche qualcuno che già non vuole capire poi quando gli proponiamo delle delle soluzioni costose e inutili scusate perché poi adesso faccio un'autocritica anche come agenzia qualche volta abbiamo proprio difficoltà di conoscere ci ergiamo a tutologi e diamo a quello ma no lo devi fare così e diamo delle soluzioni che qualche volta non hanno davvero senso quindi un po' di domande sul dove abbiamo parlato un po' outdoor indoor esposizione personale controllo di processo controllo cammino emissioni diffuse fence monitoring mi devo mettere al confine perché devo valutare se lì determino delle variazioni di concentrazione tra dentro e fuori la rappresentatività spaziale abbiamo detto la risoluzione spaziale se ho bisogno di fare mapping o se mi basta un solo punto che sia rappresentativo per quanto tempo e quindi anche qui la rappresentatività temporale e di nuovo la rappresentatività temporale vuol dire lo faccio per un giorno per una settimana per un anno qual è rappresentativo del processo che sto seguendo del fenomeno che sto seguendo cioè se vado a Torchiarello d'estate quel fenomeno me lo perdo ed è inutile che sto tutti i giorni dell'estate per seguire quel fenomeno non c'è quindi però certe volte noi ripeto con quell'accanimento diagnostico di cui parlavo prima ci lanciamo a fare degli studi che ci fanno perdere tempo risorse e che poi ci portano a poco quindi i disegni sperimentali sono fondamentali e cosa devo misurare le caratteristiche a quali livelli di concentrazione cioè ho comprato lo strumento giusto per vedere questi livelli oppure no l'altro giorno ho stato in un posto dove hanno comprato un bellissimo misuratore online di benzene che però fa online quindi in continuo che però fa non più cioè sì non meno di 10 microgrami per metro cubo che mi serve una roba del genere forse in qualche posto di lavoro forse per far vedere una fuga di gas o in un impianto ma se devo fare l'esposizione personale quello strumento non fa 10 microgrami per metro cubo eppure è nuovissimo ma è possibile che chi l'ha costruito me lo sta proponendo adesso sì ma per altri obiettivi per altri scopi adesso qui procedo un po' più velocemente o poi chiaramente mi dite quando ci devono fermare per favore fatemi domande intervenite qua procedo velocemente comincio con con i miei cavali di battaglia sulla strumentazione innovativa per fare polveri e quindi misurazione diretta della massa diretta tra virgolette perché in realtà non c'è nessuno strumento che pesa le polveri però ecco non capisco perché noi dobbiamo avere ancora un mercato che deve parlare di strumentazione che fa la misura diretta della massa sempre che misurare la massa delle polveri abbia ancora un senso e vabbè e su questo ne possiamo anche parlare noi abbiamo una normativa che ma direzione di misurare la massa delle polveri sappiamo benissimo che la pericolosità delle polveri è in ragione alla loro capacità di attraversare il nostro tronco respiratorio e quindi dovremmo misurare magari le più fini e il numero delle particelle più fini vabbè facciamo la massa però non c'è nessuno che oggi e gli altri che lo sanno si adeguano che chiama quegli strumenti come strumenti di misura indiretta perché voi di misura indiretta lo fanno con l'assorbimento beta ma l'assorbimento beta non è una pesata è una misura indiretta cioè vediamo quanta radiazione beta viene assorbita questa in qualche modo proporzionata la massa ma è una misura comunque indiretta poi ci sono dei misuratori ancora più semplici che sono nei filometri che vedono l'opacità diciamo che produce questo particolato e queste sono misure ancora meno accurate poi abbiamo le più accurate abbiamo i contatori di particelle e moltissimi contatori di particelle adesso esprimono i valori in output già in PM10 PM2.5 quindi io questi li devo qualche volta downgradare per recuperare le informazioni che a me serve veramente che quella diretta del numero di particelle invece per loro hanno creato sistemi algoritmi per trasformare il numero di particelle in PM10 PM2.5 contatori a condensazione spettrometri a mobilità adesso ve li faccio vedere molto velocemente impattori inerziali anche qui qualche volta anche su alcuni lavori scientifici messi insieme i dati degli spettrometri a mobilità con i dati degli impattori inerziali gli spettrometri a mobilità ai contatori di particelle sapete che leggono il diametro ottico delle particelle e non il diametro aerodinamico mentre gli impattori inerziali leggono il diametro aerodinamico tutti quegli strumenti che hanno in qualche modo una testa che fa una selezione leggono il diametro aerodinamico però quante volte li troviamo confusi insieme a questi concetti e poi fino ad arrivare ai contatori personali che servono per fare il citizen monitoring qui alcuni sistemi di massa questi li conoscete ve li ho presentati perché questi oltre che essere convenzionali adesso finalmente tirano fuori misure anche orarie perché abbiamo raggiunto sensibilità sufficienti per avere il PM10 il PM2.5 sia con la determinazione beta che vedete alla vostra sinistra sia con la determinazione per unità oscillante quindi i famosi Theom che raccolgono una parte del particolato che entra nella testa su una specie di vetrino la frequenza di questa di questa unità vibrante è funzione della massa che viene raccolta su questa quindi praticamente una microbilancia poi alla fine funziona un po' così da noi non ce ne sono tantissimi ma per esempio in Inghilterra e negli UK in generale sono molto presenti oppure un nefelometro anche questi ormai fanno misure dirette possiamo trovare tantissimi giocattolini che sono dei piccoli nefelometri che vedono praticamente l'opacità quindi quanto è scuro il filtro che abbiamo preso e sulla base di quello ti tirano fuori un dato di PM10 di PM2.5 tutte quelle misure che avete sentito al report dell'anno scorso che hanno fatto nei tunnel delle metropolitane le hanno fatte tutte con questi giocattolini qui che chiaramente possono darmi contezza su li è di più li è di meno ma dirmi che lì sono 100 microgram per metro cubo fatto con un efelometro non ha assolutamente senso però ci consentono appunto di vedere gli andamenti temporali di fare i confronti tra sito e sito insomma sta risoluzione temporale è utile poi abbiamo i contatori di particelle che invece lavorano sullo scattering di un raggio laser e che per esempio con questi studi abbiamo condivisi anche con i colleghi ci hanno consentito nel tempo di verificare il trasporto trasfrontaliero quando era di carattere antropico vedete che c'è questo canale dell'OPC che si differenzia in questo diametro ottico si differenzia da quest'altro e ci ha consentito di scoprire quando avevamo particelle che erano diverse da quelle che frequentemente avevamo nei nostri territori ci siamo chiesti che cosa succedesse abbiamo attivato dei sistemi di misurazione di caratterizzazione delle polveri in quel momento e abbiamo verificato che hanno delle caratteristiche chimiche e fisiche molto differenti qui invece riuscivamo a distinguere questo contributo trasfrontaliero antropico dal traffico autoveicolare che invece ha più queste caratteristiche e anche aiutandoci con le mappe dei nuova ecco la caratterizzazione chimica di cui vi ho parlato vedete qui queste concentrazioni di solfato alto mentre quelle di traffico autoveicolare si contraddistinguevano per una concentrazione elevata di nitrato siamo riusciti a distinguerlo notevolmente per esempio dal trasfrontaliero naturale delle dassa ariane qui abbiamo dei risultati molto simili a quelli raccolti qui in Umbria dove si vede invece un altro canale che ha una difformità rispetto alla normalità che è questo delle particelle un po' più grossolane qui si vedeva ancora di più anche incrociandolo con la radioattività naturale che in qualche modo è una misura del banderilei dello strato rimescolato e quindi si vedeva che quando lo strato rimescolato nelle nostre zone è alto 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 tutti gli altri inquinanti si diluiscono mentre permette la fumigazione quindi l'ingresso di masse d'aria che stanno a livelli più alti che provengono dal Sahara abbiamo anche contatori a condensazione spettrometri a mobilità impattori inerziali grazie per esempio a questi spettrometri a mobilità siamo riusciti finalmente ad avere distribuzioni qui sulle ordinate avete praticamente il numero di particelle sulle ascisse avete le dimensioni delle particelle quindi potevamo vedere anche se cambiava la distribuzione delle particelle in relazione a quello cambiava la sorgente questo ci ha consentito per esempio nelle in alcuni casi dove avevamo emissioni diffuse da polveri di distinguere alcune polveri da altre qui addirittura vi sto facendo vedere invece la variazione temporale di questi di queste distribuzioni praticamente se prendete tante di queste le mettete uno di fianco all'altro ottenete dei grafici come questo che vi dicono anche quali sono le particelle più numerose quindi vedete che da questa situazione a questa cambia notevolmente la sorgente che produce particelle perché la distribuzione è molto è molto differente quindi queste qua sono due sorgenti diverse in particolare vi posso dire che si trattava in questo caso di sorgenti naturali in questo caso di sorgenti antropiche e abbiamo avuto questo fenomeno come potete vedere in giorni molto vicini addirittura c'è stato anche un overlapping nello stesso giorno e quindi capite quando abbiamo questi fenomeni che hanno una strutturazione temporale molto definita abbiamo bisogno di strumenti che abbiano un'elevata definizione temporale se io prendo il valore del PM10 giornaliero a chi lo attribuisco in una giornata in cui ho avuto due sorgenti molto diverse che hanno contribuito e quindi devo poter fare un apportionment si dice una ridefinizione ridistribuzione di quelli che sono stati i contributi per arrivare a questi strumenti invece che vengono utilizzati appunto per citizen monitoring questo per esempio è uno strumento secondo me tre più performanti che si sta adesso sul mercato e che fa ultra fine particles diciamo da 300 nanometri in giù e viene utilizzato molto bene anche per fare valutazione degli impatti delle polveri sulle persone ma non finisce qui noi possiamo fare possiamo provare a fare delle caratterizzazioni chimiche del particolato in campo ad alta definizione temporale cioè avete visto prima cosa metto il contattore ottico di particelle e poi devo mettere uno strumento che mi raccoglie le polveri e poi andare in laboratorio per vedere che c'è dentro io posso pensare di fare con uno strumento del genere in continua composizione ionica cioè ho dei cromatografi ionici collegati con un sistema di denuder che ogni 15 minuti mi lava un filtro e me lo porta nel mio cromatografo ionico anzi in tutti e due i miei cromatografi ionici magari contemporaneamente riesco a fare gli anioni e i cationi e quindi questo vuol dire avere una elevata risoluzione temporale anche della concentrazione di solfato e non sapere che quella giornata è una giornata dove il solfato era di più o il nitrato era di più per esempio con queste abbiamo studiato cose anche con i colleghi di Milano Bicocca che si riferivano alla chimica dell'atmosfera all'alternanza tra acido nitrico e acido nitroso mentre per esempio sui nostri filtri di particolato noi nitriti e acido nitroso non lo troviamo praticamente mai ma perché per come raccogliamo il particolato quelli si ossidano si trasformano reagiscono con l'aria che continua a flussare però in quanti lavori scientifici c'è ancora gente che prende il filtro di particolato e analizza il contenuto ionico facendo anche dei bilanci di massa disconoscendo che ci sono questi fenomeni di artefatto che avvengono sul filtro per cui qualche volta insomma si fanno delle cose perché abbiamo fatto sempre così abbiamo la possibilità di fare carbonio organico e carbonio elementare online cioè sempre lo stesso strumento che ci fa l'analisi termica poi se volete approfondire questi argomenti ci fermiamo un'altra volta ne parliamo bene che mi consente di fare la componente elementare la componente organica e anche la componente carbonatica diciamo così quindi in organica questi sono strumenti che adesso vedete si possono tranquillamente mettere in testa a una centralina un altro parametro interessante è il black carbon per esempio parlavo con Fabrizio Bianchi noi abbiamo i nostri epidemiologi che lavorano fondamentalmente oggi su correlare le concentrazioni di particolato fine PM10 PM2 5 con la mortalità e la morbidità invece negli Stati Uniti si vede che sono questi parametri ancora grossolani perché il black carbon è una proxy ancora una volta della tossicità perché se c'è tanto black carbon posso pensare che le combustioni sono più incomplete posso avere tanti più incombusti alcuni di questi sono pericolosi e cancerogeni per cui non è che il black carbon fa male in sé o il PM10 fa male in sé questo lo dicevamo anche in commissione europea stiamo lavorando con Xavi Carol del SIGS di Barcellona perché stiamo facendo questa linea guida o meglio loro l'hanno già realizzata ma noi la dobbiamo considerare per sottrarre le giornate di PM10 adesso metti Fabrizio Bianchi a studiare le concentrazioni elevatissime del PM10 che abbiamo a Bari nella stagione estiva e a non trovare una corrispondente mortalità morbidità perché quella non è una proxy buona in alcuni territori se vai a Milano è una proxy ottima fantastica perché il 90% del PM10 è PM2.5 il 90% del PM2.5 è PM1 quasi tutto è prodotto da traffico cioè lì è tutto facile cioè l'area padana è tutto più facile se venite da nostre zone però vediamo anche con i colleghi all'Umbria anche da voi ci sono questi elementi di complessità ci sono degli scambi dei trasferimenti trasfrontali dei trasporti di massa d'aria che diversamente da Milano diciamo danno un'ulteriore varietà alle caratteristiche sia chimiche che fisiche del particolato nei Stati Uniti per esempio stanno lavorando molto su black carbon e adesso probabilmente sarà introdotto anche dalla c'è già una commissione CEN che ci sta lavorando per fare una normazione che poi possa essere utile anche per una possibile legge direttiva su questo argomento anche qui si determina in maniera abbastanza semplice per assorbimento della luce per arrivare fino a spettrometri di massa in campo come questo e ne abbiamo 4 o 5 in Italia che contemporaneamente utilizzando un detector a tempo di volo sono in grado sia di determinare le dimensioni delle particelle il numero delle particelle e le loro caratteristiche chimiche e vengono fuori i grafici di questo genere dove abbiamo anche la concentrazione corrispondente alle particelle che abbiamo determinato di ammonio nitrato solfato cloro componente organica eccetera e anche questi sono alla base di citizen monitoring metto sulla mia bici dei sensori li collego al mio smartphone continuamente c'è un'app carina che hanno fatto un ragazzo delle nostre parti che è un ciclista e mettendo questi sensorini cinesi che costano pochissimo a bordo delle biciclette dava queste informazioni a tutti gli altri ciclisti così che loro prendessero le strade a più basso inquinamento e non gli altri per cui vedete su questa app la mappa della città forse c'è qualcosa no la mappa della città con le strade dove i ciclisti che sono passati hanno trovato maggior inquinamento è chiaro che una modalità di questo genere è ha più un ruolo dimostrativo che un ruolo scientifico però però sì sì però diciamo può essere interessante perché magari su 20 volte 30 volte che fai quella strada la trovi sempre a livelli alti puoi dire quella strada è un hotspot cioè evitatela perché le concentrazioni sono alte può servire un decisore per dire proviamo a metterci un senso unico su quella strada magari diminuiamo le macchine o proviamo a pedonalizzarla perché quella può essere critica in quell'area della città cioè ecco guardate non sempre sta roba che ha questo ragazzo in mano adesso la sinistra deve servire per farmi il 155 e non è che sempre col 155 possiamo soltanto determinare supportare la pubblica amministrazione nelle scelte che devono fare orientare i cittadini nelle decisioni io poi tra l'altro ho fatto le cose in grande mi sono comprato questo grande grande van che comunque che non utilizzo in realtà come per i ciclisti per andare in giro ma mi serve per portare laboratori analitici sui posti per fare micro inquinanti che altrimenti nemmeno con i campionatori più sofisticati riuscire a fare pensate a quante sostanze si degranano molto velocemente e su queste sostanze abbiamo bisogno di dare una risposta veloce quindi diciamo questo van che tutto sommato è un è un grande laboratorio ecco questo è simile questo l'ha fatto invece quel ragazzo con con quella macchinetta si sposta nelle strade e con questo flag rosso giallo verde dice a spanne dove la qualità dell'aria è migliore o peggiore questo invece piacerà più a Giancarlo invece è un drone che ha messo un sensore a bordo e che ha fatto in realtà dei dati puntuali cioè è rimasto lì in statico per fare delle determinazioni ogni ogni due o tre minuti adesso non ricordo esattamente poi si è spostato nell'ambito di un grigliato e ha consentito di fare mappe di questo genere come quella che vedi questo per esempio era un sito contaminato che bisognava caratterizzare in termini di se non sbaglio tipo uno sversamento di gasolio di cose di questo genere bisognava vedere qual è il sito più critico in termini di emissione allora anziché farci andare degli operatori che può essere pericoloso tu ci mangi un drone lì e ti fa una mappa e allora qui per bonificare so che ci sono delle aree assolutamente accessibili delle altre in cui bisogna fare attenzione e quindi devo fare in modo che i miei operatori si dispongano diversamente un'ipotesi di uno studio una ditta privata che usa i droni per misure fonometriche però che gli hanno conoscono lo diciamo utilizzano abitualmente i droni però per misure fonometriche che hanno un altro problema tanto con il loro tumore o non sa la frequenza lo scatto e il finisce per capire un po' proprio con l'idea di fare cioè la possibilità di fare delle valutazioni non per misure ma per misure la questione la questione il problema della turbolenza è reale anche se qualcuno si sta organizzando per fare delle configurazioni che abbiano una fluidodinamica per ridurre l'interferenza della turbolenza di fatto c'è perché comunque stai andando in un volume di aria che stai condizionando attraverso il volo lo stai condizionando però di nuovo qui io vi ho mostrato più la mappa cromatica che i valori di concentrazione perché anche lì anche lì cioè secondo me se c'è questa turbolenza che è più o meno comune in tutto il volo cioè mi metto riproducibilmente a fare sempre le stesse cose leggerò 10 volte di meno 10 volte di più poi vai a fare un metodo di screening però non per questo ecco demoliamo il drone perché c'è la turbolenza può essere uno strumento che ci consente di arrivare in posti dove non possiamo arrivare ci consente anche di spatterare aree notevoli in un tempo molto molto lì poi però c'è un problema adesso che stanno vedendo chiaramente sulla geolocalizzazione dei punti per cui bisogna interfacciare lo strumento analitico con lo GPS è un GPS anche parecchio fine perché se poi mi fai un grigliato piccolino devi avere un posizionamento e ste robe quando le metti in aria si statici il posizionamento di sta roba è piuttosto standard oggigiorno con i droni sì però diciamo oggi mettere se tu vuoi fare delle maglie di due metri c'è una roba del genere in in quattro metri quadri non ti sta a fermo cioè basta si muove insomma per cui bisogna capire questo però insomma si fa se noi parliamo dal punto di vista puramente scientifico condivido in pieno ovviamente la tesi esposta ma dal punto di vista puramente del controllo ufficiale è fondamentale il limite porto un esempio che di Terni che si avvicina ovviamente molto a Tanto per esempio noi facciamo tutto il riscontro e i monitoraggi sui metalli pesanti i contenuti del PM10 e PM2 e 5 trattandosi appunto a parte abbiamo dovuto fare pure dei seminari distinguendoci che l'acciaieria di Terni il ciclo produttivo di Terni dell'Asta era completamente diverso da quella di Tanto ma la criticità sta proprio però nel fatto per esempio che nell'acciaieria negli impianti dotati che fanno acciai speciali mi vado a mi trovo nei polvi nelle PM10 PM2 e 5 metalli pesanti cromo nickel molibdeno tungesteno e quant'altro che sono nessuno di questi è normato e quindi diventa tanto è vero che ARPA ha portato avanti questi controlli però non c'ho un riscontro dal punto di vista dei limiti e quindi diventa un'attività puramente scientifica appunto e basta ecco che ne pensa allora sul discorso che i limiti hanno un valore legale fiscale cogente io sono d'accordissimo cioè poi ci deve essere una regola che deve determinare quello che appunto è socialmente accettabile e quello che non lo è cioè secondo questa convenzione ti diamo una regola che devono stare sotto quei limiti io parlavo invece del limite e dei limiti cioè noi non dobbiamo pensare che però associati a quei limiti ci sia che a 0,99 siamo tutti bene a 1,1 la gente cade per terra per strada però cioè la risposta che ci viene da qualche mascalzone che prima diceva diceva Walter è io sto nei limiti cioè me lo dice ARPA o non è lì me lo dice ARPA me lo dice ARPA ma voi pensate anche soltanto a idrocarburi non metano che qualcuno chiama non metanici ma in realtà con la traduzione non metano idrocarburi non metano sono sparite la nostra legislazione cioè non sono più presenti perché evidentemente in ambiente urbano ma storicamente in ambiente urbano non venivano emessi particolarmente sono microinquinanti come i via romatici eccetera quindi si tenevano prima per controllare le raffinerie i pozzi petroliferi chi lavorava col petrolio insomma è evidente qualcuno a un certo punto dice nei comitati tecnici nazionali è inutile che continuiamo a spendere soldi a monitorare questa roba perché in aria urbana è sempre basso bassissimo il limite non è superato ma quella era stata pensata per altra roba c'erano ai miei tempi quando io mi sono lavorato nel 97 dieci giorni dopo mi occupavo per quella storia che un ingegnere vuole fare sempre il muratore andavo a fare la manutenzione di monitoraggio quindi ero lì che ho imparato a fare un po' l'ingegnere facendo il muratore utilizzando i test smontando orifizi smontando pompe camere di reazioni eccetera tra l'altro con un signore che non era laureato e che non mi dava spiegazioni cioè tu vedevi come facevi dovevi imparare così dovevi imparare così e quando sbagliavi erano cioè che vabbè adesso secchi acqua e riprendi a lavare il pavimento della centralina cioè ho cominciato così ma quando cominciavo così c'erano noi si facevano l'acido cloridrico l'acido fluoridrico nelle centraline non so se qualcuno di voi se lo ricorda in quelle industriali perché avevamo considerato che questo è importante oggi non facciamo più acido cloridrico e acido fluoridrico completamente sparito perché? perché in città è basso ma vabbè auguri va così non so per esempio quante ARPA fanno i rapporti diagnostici tra toluene e benzene per vedere qual è la sorgente che determina quel benzene io a Taranto faccio i nitroipa che sono sono molto più tossici degli ipa perché siccome c'è quel gruppo nitro hanno una capacità di solubilizzarsi nei fluidi biologici molto di più trovo le stesse concentrazioni non sono normati però i primi le primi slope che stanno avvenendo per quelli che fanno riscassezza sono elevatissimi in alcuni dei casi anche più più elevati del benzopirene come si fa? cioè è evidente che non possiamo più affrontare questo problema soltanto con i limiti poi mettiamoli i limiti e facciamoli rispettare però quando stai sotto non ti senti sicuro questo era il messaggio è sempre più un passaggio che succede questo è un passaggio e vediamo iscrivete